buongiorno a tutti buongiorno oggi non so neanche che giorno è oggi nella giornata è iniziata la grande ve lo dico dopo il perché mi sono emozionato di verità ancora adesso che ci penso sono emozionato e dopo come dicevo ve lo dico allora abbiamo dormito in questo spot adesso mi sposto in un'altra parte per farvi vedere la bellezza di questo spot e poi ve lo farò vedere da un altro punto di vista meraviglioso pensate che questa roccia qua dove c'è il van siamo su una spiaggetta si chiama monte squalo neanche farlo opposta shark e sotto e siamo davanti al monte squalo allora adesso andiamo a salutare veloce la lussi al metodo di qua perché c'è il sole mi metto andiamo salutare la lussi sui saluti adesso sta preparando da verrà poco dovrà aiutarla a lavarsi i capelli e via speriamo che non sia sul condotto buongiorno buongiorno sto pulendo col solito tutto a posto si si adesso metto tutto per fare la lavanderia metto tutto quello che c'è da mettere a lavare e poi mi lavo un attimo i capelli ti lascio al tue commissioni bene bene allora adesso se ci riesco a farlo in diretta tanto è semplicissimo sarà un po da camminare capponi vediamo vado lassù vi faccio vedere il panorama che è meraviglioso sono in infradito devo stare attento non imitatemi perché rischiate di farvi male se non avete un po di esperienza no che io ce l'abbia di arrampicata però diciamo che fin da bambino andavo sui alberi superi muri da più vedrete in diretta invece volare guardate che posto meraviglioso shark e lì sotto che meraviglia e adesso vi faccio vedere il resto della baia meravigliosa che fantastico guardate il colore dell'acqua meravigliosa allora ieri la giornata siamo partiti per trovare questo posto è stata la scelta dopo altri due tre spot che abbiamo visto carini ma niente di eclatante siamo passati per palau palau una cittadina a vederla l'impressione molto turistica molto vissuta d'estate anche se c'era della gente però credo che il suo esploi qua e l'estate perché c'erano tutte case chiuse seconde case case vacanze campeggi scusate ho fatto il fiatone non è tanto però va su e a certo momento ci stiamo siamo usciti per cercare gli spot che avevo visto sul satellite siamo arrivati in cima uno spettacolo eccezionale abbiamo visto la maddalena tutte le isole a fianco e questo paesaggio veramente ecco volevo farvi vedere questo di più ok adesso basta sono i cocai che fanno casino quindi un paesaggio mozzafiato veramente abbiamo fatto delle foto delle clip video veramente un bel posto poi abbiamo fatto pranzo in riva al mare vicino un campeggio sempre lì a palau avevamo voglia di stare lì però detto beh non mi convince eravamo sotto la strada ho detto andiamo a cercare altro siamo partiti abbiamo fatto tipo una ventina di chilometri e siamo arrivati qua dicevo il monte si chiama monte squalo non so il posto dove siamo vicini a porto cervo quello sì perché dobbiamo andarci adesso a fare la lavanderia e quindi siamo in questa zona qua della costa smeralda e siamo arrivati giù non è per i camper arrivare giusti posti qua quindi amici camperisti non è per voi se avete lo scooter e la moto venite volentieri ma col camper rischiati di far danni perché ci sono la strada stretta dei rami sono delle buche e non è il caso invece per il van o i furgoni non c'è nessun tipo di problema allora siamo arrivati qua rimasti a bocca aperta subito tempo di sistemare il mezzo perché tutto giù in discesa e parcheggiato io ho visto questa roccia sono salito ho visto questo me ne sono innamorato bellissimo abbiamo visto gente fare delle passeggiate ma la cosa più bella i ragazzi che sono emozionato sono contento che mi è successa un'ora fa circa ieri sera e dopo vi dico perché un'ora fa ieri sera sono venuto qua su col buio c'era un cielo stellato io qua in sardegna quasi tutte le sere abbiamo visto dei cieli meravigliosi la via latte a tutte le costellazioni che non conosco ma bellissimo addirittura ho visto anche una stella cadente ho visto sta striscia questo puntino infiammato che si è spenta sopra di noi mamma mia ma mi ha riempito d'emozione sta cosa e poi certo momento è successo che ero qua che ammiravo il paesaccio vedete lì c'è un porticciolo delle case era tutto illuminato lì lì buio le luci lì anche lì che c'è un complesso tutto bello illuminato illuminato stelle e sentivo un rumore tipo avete presente quando si fa quello sport d'estate bene o male tutti l'avrete fatto se non tutti parecchi lo snorkeling che praticamente si mette la maschera il tubo e con le pinne si va a filo di acqua ci si butta sotto e si va fuori quando si respira nel tubo si sente questo rumore qua mi sembra strano che alle nove di sera nove e mezza di sera c'è qualcuno che fa snorkeling vedevo delle barchette di pescatori però non vedevo come mi è capitato se non ricordo male in puglia che c'era gente che faceva lo snorkeling la sera però aveva la torcia subacqua quindi si vedeva il fascio di luci qua non c'era niente mi è venuto un sospetto però ho detto non può essere quello che penso torniamo stamattina stamattina esco faccio una bella foto che proprio mi è venuta bene l'ho messa su facebook su instagram andate a vederla c'è un primo piano di una pianta con un shark dietro in sfocatura mi è venuta veramente bene quella foto lì è fatta sempre con l'iphone e a un certo momento sento il stesso rumore guardo voglio e vedo un bocca al tipo un boccaglio certo momento vado vicino a shark che siamo sul mare praticamente erano dei delfini ragazzi c'erano ben tre delfini due attaccati uno più avanti che sono passati da là e sono andati laggiù loro uscivano respiravano e si immergevano uscì mamma mia mi ha riempito d'emozione infatti ho fatto il video e ovviamente la qualità del video del delfino preso non è buono prodotto zoomare il telefono però l'emozione che ho vissuto vissuto quel momento lì è stata eccezionale la luce era in van li ha visti anche lei o è una roba fantastica e questo dico a quanto sono fortunato a vivere di queste emozioni qua grazie a un furgoncino un van che mi porta in posti abbastanza tranquilli isolati che mi dà la possibilità i delfini si vedono anche magari da laggiù però vederli in questo contesto qua da soli in mezzo al verde con una leggerissima brezza marina ma si sta veramente bene sono in maniche corte in infradito danno pioggia oggi purtroppo ed è stato veramente emozionante bene questa era quella cosa che volevo condividere con voi che veramente mi ha riempito di gioia è incredibile è incredibile poi commenti di ieri avete partecipato in tantissimi grazie mille è stato veramente eccezionale leggere i vostri commenti sono stati anche dei commenti lunghi siamo mesi vi ringraziamo tutti quanti noi andiamo avanti per la nostra strada fine andiamo avanti per la nostra strada io mi piace sperimentare fare e andiamo avanti per la nostra strada noi tanto comunque uno mi ha detto sono disposto anche a pagare un certo prezzo per fare questa vita quad di youtuber e vedendo quello che diceva lui riflettendoci non ha tutti i torti perché se devo fare dei video a chi perché piace la gente o perché devo fare delle cose a certo momento la lunga può stancare invece così li faccio quando me li sento quando voglio dire qualcosa poi cristiano camoro che è un ragazzo che gli ho fatto una live l'anno scorso che ha fatto un viaggio in bici un ragazzo veramente bravo non ci conosciamo ancora personalmente siamo più o meno abitiamo vicini e mi ha scritto di andare sull'altra piattaforma su twitch e io qui ce non conoscevo l'ho conosciuto tramite lui mi sono scritto o un canale twitch e mi diceva di alternare anche delle live con col canale youtube ho detto mi diceva di fare sfruttare anche quel canale li ho detto guarda qui c'è l'ho provato ci ho messo solo un video di presentazione non mi è che mi entusiasma tantissimo sinceramente poi c'è poi a un altro modo di lavorare a differenza di youtube degli stream c'è ogni social c'è il suo modo di lavoro e qui c'è non è che mi ha entusiasmato tantissimo per il momento magari un domani chissà le live non le faccio più le ho fatte solo il periodo del lockdown bello interessante perché parte delle live nostre ho fatto anche arrivare degli ospiti che hanno parlato di viaggio di camper ed è stato bello però finito ho detto ne facevo 12 puntate con quella che fosse tornavo in autunno ma dopo non sono mai tornato perché non non mi andava più di farle basta magari chissà ne faremo dovevo fare quella dei 7 mila anche pensate e poi tra una cosa l'altra non sono mai riuscito a farlo però mai dire mai via poi altri commenti che mi vengono così in mente parte i complimenti la vera città delle persone che siamo che non è niente di costruito questa è una cosa che ci ha fatto piacere ed è fa piacere che riusciamo a far passare questo messaggio vivere dentro un van in maniera semplice in maniera naturale in maniera non costruita e questo è molto positivo questa cosa qua va bene adesso chiuso il discorso youtube del mio canale non ne parlerò più vi ringrazio nuovamente oggi non so che argomento trattarvi da proporvi nei commenti magari mi verrà in mente durante la giornata lo dirò nel video di domani vi rifaccio rivedere il posto di dove siamo non c'è lì mi sembrava che era una persona guardatela o è incredibile come sembra tutto finto queste rocce questa cosa qua sembra un parco giochi sembra tipo le carta peste cose e questo l'abbiamo notato anche in tanti posti qua della sardegna che sembra tutto finto e invece roccia vera e è fantastica va bene adesso vi faccio vedere shark e dove di nuovo vediamo se non mi cappotto dove abbiamo dormito questa notte anche questo è uno dei spot più belli che abbiamo visto eccolo lì riparati dal vento veramente meraviglioso ok amici muleria che dirvi grazie mille a tutti voi per aver seguito anche in questo video quotidiano ricordo che i video di questa di questo viaggio usciranno dal 9 di gennaio perché mi è stato detto che non sto facendo vedere niente questi sono video nati così per caso quando siamo arrivati in sardegna quello scopo di far vedere dove dormiamo poi durante il passaggio dei giorni sono aumentati da due tre minuti che sono partiti siamo arrivati ieri all'apice a mezz'ora adesso saremo sui 10 minuti quarto d'ora perché ho voglia di condividere con voi il momento quello che ho provato il giorno prima è il momento e vi facciamo vedere dove siamo stati a dormire dove è possibile arrivare con un mezzo come questo e soprattutto di godere questo va bene con questo vi saluto e ci vediamo domani ciao